Benvenuti e benvenute a questo nuovo tutorial di Orizzonte Scuola per la compilazione delle domande di assegnazione provvisoria per il personale docente. La domanda va compilata e inviata entro il 5 luglio tramite l'usuale portale ministeriale di Stanze Online. Fanno eccezione i docenti che attualmente hanno una nomina finalizzata al ruolo, cioè attualmente a tempo determinato e che dal 1 settembre si trasformerà a tempo indeterminato. Quindi i docenti neoassunti dalla prima fascia delle GPS sostegno o vincitori del concorso straordinario BIS. Tali categorie di docenti non avrebbero potuto presentare la domanda di assegnazione provvisoria in quanto ancora a tempo determinato. Questa è una domanda che possono presentare solamente i docenti a tempo indeterminato. Ma attraverso contrattazioni con i sindacati il ministero ha deciso di estendere anche a tali docenti la possibilità di presentare domanda. Ma la domanda in questo caso va presentata con una modulistica cartacea che si trova in questa sezione del ministero. Si tratta dei moduli dal numero 15 al numero 18. Sono divisi per ordine e grado. Non è necessario stamparli, si possono direttamente compilare al computer, poi esportare in PDF e inviare tramite PEC all'ufficio scolastico provinciale della provincia scelta per la domanda di assegnazione provvisoria. Se si dovesse utilizzare la PEC della propria scuola perché non si possiede una PEC personale, bisogna ricordarsi di allegare un documento di identità. Vediamo ora la compilazione su istanze online che dovranno fare tutti i docenti a tempo indeterminato. Appena si accede bisogna cercare il riquadro presentazione, domanda, mobilità in organico di fatto e cliccare su varia la compilazione. In questa pagina si trovano alcune informazioni e consigli per la compilazione. Per esempio si consiglia di non utilizzare il tasto indietro del browser, nel mio caso o questo, in quanto si potrebbero perdere dei dati della domanda. Andate in fondo, spuntate la voce ho letto, accetto i termini e le condizioni legali e cliccate su avanti. Nella pagina successiva accompagnano i propri dati personali, in fondo cliccando ancora su avanti si accede alla domanda che è la seguente. Bisogna selezionare l'ordine di scuola nel quale si vuole presentare domanda, a titolo di esempio sceglierò scuola secondaria di secondo grado e poi si può scegliere assegnazione provvisoria, utilizzazione provinciale oppure utilizzazione interprovinciale. Per l'assegnazione provvisoria bisogna selezionare la provincia in cui è presente il comune in cui si sta chiedendo il ricongiungimento familiare oppure il comune in cui ci si vuole trasferire a causa di gravi motivi di salute. Una volta selezionato si clicca su inserisci. Si accede alla domanda vera e propria con le varie sezioni da compilare. Quelle obbligatorie sono la sezione F sulle esigenze di famiglia in quanto la domanda di assegnazione provvisoria si può presentare solamente per particolari esigenze di ricongiungimento al nucleo familiare, quelle elencate nel contratto collettivo nazionale integrativo. L'altra sezione obbligatoria è la H, quella sulla tipologia di posto richiesta per l'assegnazione. Cominciamo la compilazione dalla sezione F cliccandoci sopra. Nel punto numero 16 bisogna selezionare il comune di residenza del familiare per il quale si sta presentando la domanda. Ricordo che in sensi dell'articolo 7 del CCNI si può presentare la domanda per ricongiungersi ai figli, al coniuge, ai genitori, dei parenti, a parte dell'unio civile o convivente purché in questi casi la convivenza sia stabilita da una certificazione anagrafica. Ricordo inoltre che il comune non può coincidere con quello di titolarità. Quindi per scegliere questo comune di residenza clicchiamo su scegli comune e poi su seleziona. Il punto numero 17 invece è per indicare l'eventuale numero di figli con età inferiore ai 6 anni, supponiamo siano due. Il punto 18 è per indicare invece il numero di figli di età compresa tra i 6 e i 18 anni, supponiamo di non averne. Il punto 19 invece è per chi necessita di indicare il comune di assistenza del coniuge o dei figli. Una volta conclusa passiamo alla sezione H, cliccandoci sopra. In questa sezione bisogna selezionare almeno una tipologia di posto per la quale si vuole presentare domanda di assegnazione. Ricordo che chi è titolare su sostegno e non ha ancora superato il vincolo quinquennale può presentare domanda unicamente per sostegno. Chi invece è su posto comune può presentare domanda su posto comune, ma se possiede anche la specializzazione oppure un anno di servizio su sostegno può presentare domanda anche per sostegno. Supponiamo di essere in quest'ultimo caso e quindi spuntiamo posti normali, i posti di sostegno e indichiamo di aver prestato almeno un anno di servizio su posto di sostegno. A questo punto abbiamo compilato tutte le sezioni obbligatorie e quindi clicchiamo su salva. Ora possiamo compilare le preferenze, cioè le scuole, i comuni, i distretti in cui si dà disponibilità per l'assegnazione. Clicchiamo quindi su preferenze e poi su modifica. Il sistema mi ricorda che ho al massimo 15 preferenze, questo perché ho scelto la scuola secondaria di secondo grado. Lo stesso numero di preferenze vale anche per la secondaria di primo grado. Per infanzia e primaria invece le preferenze possibili sono al massimo 20. Clicchiamo su aggiungi preferenze e ricordo che secondo l'articolo 7,8 del CCNI la prima preferenza deve essere sul comune di ricongiungimento oppure sul distretto o su una scuola dello stesso comune. Nel nostro esempio avevo scelto Ponte d'Era, quindi cerchiamo Ponte d'Era ed ecco qui il comune. Se voglio scegliere una scuola clicco sul più e qua posso selezionare le scuole che interessano nell'ordine preferito. Una volta che ho selezionato le scuole interessate come ultima preferenza devo comunque segnare il comune se voglio passare anche a comuni differenti. Nel caso di mancata indicazione del comune o del distretto di ricongiungimento la domanda non è annullata ma il sistema si limiterà a prendere in considerazione soltanto le preferenze relative alle specifiche scuole del comune di ricongiungimento e per la stessa classe di concorso o posto di titolarità. Inoltre nel caso in cui nel comune di ricongiungimento non esistano delle scuole esprimibili è possibile indicare una scuola di uno comune viciniore oppure scuole con sede in organico un altro comune anche non viciniore che però abbiano una sede un plesso nel comune di ricongiungimento. Selezioniamo ora le altre preferenze presenti in altri distretti per esempio supponiamo che ci vada bene qualsiasi scuola del comune di Pisa quindi mettiamo il comune intero e supponiamo che a Volterra vogliamo scegliere queste scuole e supponiamo che ci vada bene questo distretto completo. Una volta selezionate tutte le preferenze clicchiamo su salva. Ecco qui adesso si trovano tutte le nostre preferenze ordinate secondo l'ordine da noi è stabilito. Se vogliamo modificarle si clicca su modifica e si può sia modificare l'ordine di scelta delle varie scuole e delle varie preferenze in generale sia aggiungere eventuali altre preferenze e si può fare sempre la ricerca per scuole o comuni oppure spuntare le voci desiderate. Per esempio supponiamo di voler dare disponibilità comunque su tutta la provincia quindi aggiungiamo quest'altra preferenza e salviamo nuovamente. Le altre sezioni non sono obbligatorie tuttavia torniamo indietro per vederle. Per modificare la nostra domanda clicchiamo su rettifica e andiamo ad analizzare la sezione di relativa alle precedenze. Questa sezione può essere compilata da coloro che appartengono a determinate categorie che hanno diritto di precedenza rispetto ad altre quindi dà la possibilità di precedere anche delle persone che hanno punteggi maggiori. C'è una gerarchia fra le precedenze rappresentata da questi numeri quindi i non vedenti hanno la priorità assoluta. Il punto 2 riguarda invece gli emodializzati. Il punto 3 è per coloro che hanno almeno due terzi di disabilità. Il punto 4 è per chi ha gravi patologie e necessita cure continuative ad esempio la chemioterapia. Il punto 5 è per i docenti che appartengono alle categorie previste dall'articolo 33,6 della legge 104. Il punto 6 è per chi assiste figli con disabilità anche temporaneamente. Il punto 7 è per l'assistenza al coniuge gravemente malato. Il punto 8 è per l'assistenza invece ai genitori che usufruiscono della legge 104. Il punto 9 è per i docenti che usufruiscono della precedenza come lavoratori che sono genitori di figli con età inferiore ai 6 anni. Avevamo indicato in precedenza di essere in questa situazione quindi lo ribadiamo, clicchiamo su modifica e poi in corrispondenza di questo punto che è il punto 9 spuntiamo la voce sì. Il punto 10 è invece per coloro che hanno figli di un'età compresa fra i 6 e i 12 anni ma questo vale solamente per le assegnazioni interprovinciali. Il punto 11 è per l'assistenza a parenti o affini fino al secondo grado oppure anche fino al terzo grado ma se hanno un'età di almeno 65 anni. Il punto 12 è per il rientro del personale collocato fuori ruolo. Il punto 13 è per i coniugi di militari trasferiti d'ufficio. Il punto 14 è per il personale con cariche pubbliche e amministrative e infine il punto 15 è per il personale che svolgeva attività sindacale e riprende il proprio servizio. Una volta indicata la precedenza, ricordo che può essere solo una, clicchiamo su salva. La sezione G1, come si può leggere, è per coloro che stanno presentando domande di assegnazione provvisoria su un altro ordine di scuola. Questa sezione permette di selezionare un ordine di gradimento fra la domanda presentata nel proprio ordine e quella o quelle presentate in altri ordini. Passiamo alla sezione G2, altre indicazioni. Fabilitiamo la modifica. Il punto 21 è per coloro che danno disponibilità a prendere anche posti di durata inferiore a un anno. Se si desiderano basta selezionare questa barra in corrispondenza del punto e poi cliccare su sì. Il punto 22 è per coloro che sono disponibili anche a prendere dei posti che sono derivanti dalla somma di varie spezzoni, purché compatibili con l'orario di servizio. Ciò significa che se si hanno ad esempio 18 ore settimanali, la somma delle ore degli spezzoni deve essere di 18 ore. Anche in questo caso se si è disponibili spuntiamo sì. Il punto 23 è per dare disponibilità anche nei serali. Il punto 24 è per dare disponibilità anche a cattedre orario esterne, le cosiddette COE. Si può selezionare COE sullo stesso comune oppure anche su comuni diversi. Il punto 25 invece è per i docenti che dichiarano di essere in part time e in tal caso bisogna specificare anche il numero di ore settimanali. Una volta compilati tutti i punti clicchiamo su salva. La sezione M è per indicare eventuali altre classi di concorso in cui si dà disponibilità ad accettare una sede per l'assegnazione provvisoria. Per inserirle basta cliccare su modifica e poi si seleziona la classe di concorso in cui si possiede l'abilitazione. Può essere anche più di una, quindi si possono selezionare anche altre classi di concorso. Una volta indicate tutte si clicca su salva. Infine dopo aver compilato tutto l'ultimo passaggio è quello dell'inserimento degli allegati. Clicchiamo su questo tab e poi su modifica. Sicuramente tutti devono inserire una documentazione relativa alle esigenze di famiglia nel quale deve essere indicato il motivo della richiesta dell'assegnazione provvisoria e in particolare a chi si sta chiedendo il ricongiungimento, la sua residenza e anche la data di inizio di tale residenza. Questo è importante perché deve risultare anteriore di almeno tre mesi rispetto alla data stabilita per la presentazione delle domande di assegnazione provvisoria. L'inserimento di altri eventuali allegati dipende dalla propria situazione personale e da ciò che è stato inserito durante la compilazione della domanda. Per sapere esattamente quali sono i documenti da allegare vi rimando al CCNI e agli articoli e video di Orizzonte Scuola. In questo caso specifico, in questo esempio, dobbiamo ancora inserire l'allegato sulla precedenza per figli sino ai 6 anni e l'autocertificazione sull'annualità su sostegno. Per quanto riguarda i modelli di queste domande, vi faccio osservare che nel sito del Ministero, nella pagina che abbiamo visto all'inizio del video tutorial, c'è un modello sull'autodichiarazione del servizio su sostegno. C'è anche un'autodichiarazione per chi ha la specializzazione su sostegno, quindi per questi due casi esiste un modello ministeriale. Per gli altri casi non abbiamo modello ministeriale, tuttavia esistono vari modelli che si possono trovare in rete, soprattutto nei siti dei sindacati. Vediamo ora di capire come inserire tali allegati. Se sono stati precedentemente inseriti a sistema, basta selezionare questo menu a tendina e selezionare l'allegato. Quindi in questo caso avevo precedentemente inserito un allegato sulle esigenze di famiglia. Ne devo inserire però ancora altri due sulla base della domanda che sto presentando. Quindi salviamo e andiamo ad inserire su Istanze Online gli altri due allegati. Basta cliccare in alto a destra sul proprio nome e cognome e poi su Torna a Istanze Online. Clicchiamo poi su Altri Servizi e cerchiamo il riquadro con scritto Gestione Allegati. Clicchiamo su Vai al servizio. Avanti. Ancora avanti. Un'altra volta avanti e accediamo alla sezione per l'inserimento e la visualizzazione degli allegati. Per inserirne di nuovi basta cliccare su Inserisci. Scegli file. Si cerca fra le proprie cartelle il file da inserire. Ad esempio in questo caso inseriamo l'autodichiarazione per il servizio su sostegno. Clicchiamo su Apri. bisogna indicare la tipologia di allegato, cliccare su Conferma e ripetere la stessa operazione per gli altri eventuali allegati. Nel nostro esempio bisogna caricare anche quello relativo alla precedenza per figli di età inferiore ai 6 anni. Con la stessa identica procedura quindi si inserisce anche questo file. Confermiamo e una volta inseriti tutti gli allegati si torna su Istanze Online e si rieseguono gli stessi passaggi per accedere alla domanda di assegnazione provvisoria. Quindi riclicchiamo su Vai alla compilazione. Nuovamente accettiamo i termini e le condizioni legali. Due volte su Avanti. Ritorniamo alla nostra domanda. Per modificarla clicchiamo su Rettifica. Nuovamente su Allegati. Modifica. E adesso compariranno gli allegati che abbiamo inserito precedentemente. Una volta inseriti tutti gli allegati clicchiamo su Salva. E una volta completata la domanda si torna indietro e si clicca su Invia. Non dimenticatevi di inviare altrimenti la domanda rimane in bozza. Per ulteriori chiarimenti vi ricordo che potete consultare tutti gli articoli del sito www.orizzontescuola.it e i video già presenti sul canale YouTube.